E a proposito di i20, debutta su scala mondiale qui a Ginevra la versione a tre porte che arriva a completare la parte medio-bassa della gamma Hyundai. La i20 tre porte arriva in vendita nella seconda metà di marzo, a partire da 10.700 euro per la versione d'ingresso per finire a 13.490 per l'allestimento più accessoriato. Tra le motorizzazioni disponibili, oltre al citato 1.2 a benzina, ci sarà sempre a benzina un 4 cilindri 1.4 da 100 cavalli e un 1.4 turbodiesel da 75 cavalli con emissioni attorno ai 116 grammi al chilometro di CO2.